La New Box Ostia conferma la sua vocazione di scoperta di talenti nel pugilato femminile. Dopo i grandi explodi Roberta Mostarda, che a soli 23 anni si è freggiata di tre titoli assoluti, tre guanti d'oro e campionati universitari, approdando in nazionale nelle fiamme oro e ricevendo anche la medaglia al valore sportivo del CONI, la Società Lidenze ha lanciato due atlete nel panorama pugilistico regionale e nazionale. Al torneo regionale senior ed elite, svoltosi a Monte Compatri, Francesca Colonna ha vinto nella categoria 60 kg. L'atleta, che a 24 anni e che si è avvicinata alla box da appena sette mesi, ha battuto ai punti con vertente unanime Greta Rocchini. Ancora più esaltante la performance di Alessia Anzalone nel torneo nazionale Mura, tenutosi a Mondovì. La giovanissima portocolori della New Box, al suo primo combattimento dopo quattro mesi di allenamento, ha superato per RSC, ad un minuto e venti della prima ripresa, la campana Serena Pagano. E la convincente affermazione le ha valsa la convocazione al ritiro della nazionale junior e schoolgirl di Assisi. Una grande soddisfazione per il maestro Emiliano Rotondi, che è riuscito in quest'ultimo periodo a raccogliere importanti risultati anche con il settore maschile. Daniel De Tillo ha vinto il campionato regionale JUT 56 kg, battendo omaggio delle fiamme oro, mentre Federico Di Loreto si è imposto nella categoria senior 69 kg.